Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, venerdì 31 marzo e a differenza del solito, di venerdì non abbiamo mai tanto da dirvi, oggi ci sono tante tante cose da raccontarvi, di football e non solo, di Konami e non solo, di tornei e non solo, insomma ci sono tante cose da segnalarvi, ringrazio tutti coloro che mi hanno segnalato quale sarà il pool di lunedì Moreno, Luke Mattaini, Matteo, Marco, in tantissimi me l'avete segnalati, spero di non aver dimenticato nessuno ma se ho dimenticato qualcuno non è per fare un torto a qualcuno ma perché non me lo ricordo, comunque grazie a tutti e grazie ai tanti nuovi iscritti al canale, lo sapete è importantissimo per il canale crescere, speriamo di arrivare quanto prima a quota 15.000 iscritti, se ancora non siete iscritti al canale fatelo subito, magari perché l'avete conosciuto da poco, magari perché ricevete le notifiche da Facebook, da Instagram, da Telegram, da Twitter, però mettete mi piace, iscrivetevi al canale perché è importante, così ricevete anche le notifiche, anche la zona community, tutte le nostre iniziative, mettete mi piace a questo video, questo lo sapete è importantissimo, siete tantissimi e ringrazio le centinaia di persone che lo fanno tutti i giorni, quasi, e continuate così, davvero è importante anche questo, ringrazio ai carissimi abbonati, ringrazio a chi manda donazioni, ringrazio a chi fa gli acquisti di Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video e nel primo commento fissato in alto di questo video, grazie a tutti, grazie per quello che avete fatto fino adesso e grazie per quello che farete da oggi in poi. Allora, prima cosa da segnalarvi, il venerdì lo sapete, tempo di tornei di eFootball su MyPad, questa app, trovate i link per scaricarla su iOS o su Android, per giocare, per fare tornei su eFootball, ma anche su FIFA e anche su altri giochi, che vi premia in vario modo, questa settimana il solito torneo di Italia Top Games è stato rinominato, ribattezzato il DLINR eFootball, perché ci sono dei premi speciali, come vedete questa bellissima felpa di Dolly Noir, e ci sono altri premi, non mancate questa sera le 20 con MyPad, ripeto, tutto si gioca su PlayStation, la app si scarica sui vostri telefoni, ma si gioca su PlayStation, ripeto che se avete bisogno di qualsiasi informazioni su MyPad, ci sono i modi per scaricare l'app e anche il link al gruppo di Telegram, dove potete chiedere tutte le informazioni che volete su come funziona il torneo e tutto, loro sono a vostra completa disposizione per svelarvi tutto, ma veramente tutto quello che serve per aumentare il vostro divertimento, ci si lamenta spesso delle mancanze di modalità che è il football, questo è un modo per valorizzare maggiormente il vostro divertimento, poi se vincete meglio, ma anche se non vincete, anche partecipare è piacevolissimo, questa felpa è meravigliosa, quindi stasera veramente non perdete l'occasione del torneo con questo prodotto di Dolly Noir, non mancate, non mancate perché davvero siete sempre di voi a partecipare, e questa settimana c'è ancora un motivo in più per partecipare con dei premi davvero interessanti, lo ribadisco, ci sono tutti i link nella descrizione del video e nel primo commento fissato in alto per scaricare MyPad o per chiedere informazioni nel gruppo Telegram. E perché non mi esce, come al solito, qualche piccolo problemino tecnico? Eccolo qui. Seconda cosa da dirvi, siamo rimasti male questa notte nello scoprire che l'E3 che doveva fare il suo grande ritorno il prossimo giugno è stato cancellato, questo è il sito ufficiale, l'organizzatore dello show, Ritpop, annuncia che l'E3 non si terrà a giugno, sia nella parte fisica sia nella parte digitale. L'Entertainment Software Association sta rivalutando come al futuro dell'E3, a questo punto davvero la sua esistenza inizia a essere davvero in dubbio, si pensava che questo sarebbe stato il grande ritorno, niente da fare. Fare degli eventi del genere è sempre più difficile, perché oramai su internet si può vedere e provare tutto, basta che vogliono gli sviluppatori, dispiace soltanto perché sapevamo che Konami avrebbe parlato di nuovi brand, avrebbe, no nuovi brand, nuovi ritorni, si parlava con insistenza in Metal Gear, si parlava di nuovi asset, cioè immagini, video eccetera eccetera per Silent Hill 2 e si pensava anche che l'E3 sarebbe stata l'occasione magari per svelare nuove licenze, così diceva Renan Galvani, ma anche ulteriori modalità per i football. Ovviamente non è che siccome non c'è l'E3, Konami non farà nulla, ci saranno altre occasioni, probabilmente o faranno uno showcase in autonomia o vedremo, vedremo. Comunque dispiace, dispiace perché per chi come me vive i videogiochi dagli anni Ottanta, l'E3 era un po' la grande festa dei videogiochi, le grandi presentazioni, i grandi annunci, e quasi sempre anche l'E3 corrispondeva all'annuncio del nuovo Pro Evolution Soccer o comunque dei primi video, delle prime immagini, quindi dispiace che questa tradizione sembra stia scomparendo, ma il mondo dei videogiochi cambia ed è sempre più semplice da casa sostanzialmente seguire tutto, vedere tutto, e quindi l'interesse per questi eventi scema, soprattutto se sono così grandi, soprattutto se sono in una sola sede a Los Angeles, che non per tutti è facilissima raggiungere, però purtroppo questa è la situazione, quindi E3 cancellato, si riorganizzeranno le software house che avrebbero partecipato, staremo a vedere come Konami rilascerà i suoi annunci, tra l'altro a giugno ci saranno anche le prime informazioni su E-Sports Football Club e ci saranno probabilmente i primi annunci anche di EA, mancano due mesi ragazzi, non tantissimo, siamo già ad aprile. Poi, poi, eccola qui, lunedì al 99,99% la nuova squadra, il nuovo pool squadra sarà nel Manchester City e ho letto qualcuno, come ad esempio Matteo, mi diceva ce l'hanno tutti Holland Speciale, io no, quindi sono ben contento, magari a qualcuno di voi l'ascolto pure ancora non ce l'ha un Holland Speciale, quindi questa può essere l'occasione giusta. Non vi sto a dire neppure le cifre dei parametri, perché sapete che Konami, questi giocatori al pool, li rivede, vediamo solo chi saranno i giocatori, Gundogan, Stones, Grealish o Bernardo Silva, Akanji, Rodri, Ruben Dias e Holland. Giocatori interessanti ce ne sono, non sono proprio quelli che a me, a me personalmente interessano, però Ruben Dias per molto tempo l'ho usato, Holland, vabbè, senza starlo a dire, Stones, Gundogan o Bernardo Silva, insomma, giocatori sicuramente, il Manchester City è una delle squadre più forti al mondo, potenzialmente, quindi non c'è bisogno di dire nulla. Staremo a vedere, staremo a vedere di questo pool, che ovviamente è molto, molto, molto interessante. Stavo vedendo se c'era qualcos'altro in Football Hub, ma no, diciamo che la cosa importante è questo pool del Manchester City, che ripeto, al 99% arriverà lunedì, e andremo poi a vedere all'inizio della prossima settimana in dettaglio tutti questi giocatori. Non mi pare che manchi nessuno dei giocatori più forti, sostanzialmente, del Manchester City. Adesso può essere, ditemi voi se avreste messo qualcun altro rispetto a questi, ma Rodri, Ruben Dias, Holland, Ubernardo Silva, Gundogan, mi sembra che ci sono tutti. Quindi un pool sicuramente interessante, anche se in tantissime abbiamo già Holland, magari abbiamo tutti gli altri, però Ruben Dias pure è un difensore molto interessante, Gundogan è un centrocampista molto interessante. Io avevo preso il pool del Manchester City quando volevo spostare il mio tipo di gioco al possesso palla, poi ho deciso di tornare al contrattacco, quindi ci penso, magari vedrò un attimo in dettaglio lunedì se vale la pena o meno girare, perché Holland ce l'ho, ce l'ho in versione abbastanza forte. Questo è quanto sui Football Hub. E poi infine ragazzi, fatemi parlare anche di un altro videogame, come dire, all'atere dei titoli più importanti. C'è questo Active Software 2023 che è arrivato su Steam in accesso anticipato, 13,31 euro. Adesso vi mostro un filmato del gioco, ovviamente stiamo parlando di un titolo vintage che si rifà ai 16 bit, a un'altra epoca dei videogiochi di calcio, però visto che ci sono lamentele su lamentele, su FIFA, su eFootball e tutto quanto, io vi propongo delle alternative possibili. Ecco, ripeto, qui adesso andiamo a vedere l'Aliaccess Gameplay, ovviamente niente licenze, tutti i giocatori inventati, però è un gioco arcade ovviamente che si rifà un po' ad altri tempi, però magari a qualcuno di voi piace. il costo è davvero ridotto, per il momento il gioco è disponibile solo su PC, ma magari più avanti arriverà anche su console, i nomi fanno davvero ridere, ci fanno ritornare in mente i tempi in cui non si potevano mettere i nomi ufficiali, e sono fantastici, Dronkers, Filipe, McCam, chissà, questo sembra un po' un Manchester City Liverpool per alcuni nomi, ma può essere pure di no, Galloway, Atkins, sono tutti, non lo so, mi fanno venire in mente, Ademir Bastos, fantastici, fantastici questi nomi, Sombol, Sombol, Gomez, bello, bello questo dribbling, e insomma è una proposta di calcio vintage, retrovince, Nicoletti, Amson, scusate mi sto impallando sui nomi dei giocatori che sono fantastici, e questo è quanto, è una serie che è uscita da molti anni, e che ogni anno un po' si rinnova, non è che abbiano ottenuto un successo strepitoso e clamoroso, però magari a qualcuno di voi può interessare, sapete che io sui videogiochi di calcio cerco davvero di coprire qualsiasi tipo di prodotto, di iniziativa, di novità, FIFA, Football Manager, iFootball, UFL, e poi ecco queste proposte diciamo fra virgolette minori, ve le faccio vedere tutte, davvero tutte, il gioco in cui impersonavi l'arbitro, insomma, veramente sui Dariato Games, per quanto riguarda i videogiochi di calcio, si cerca davvero di darvi un quadro il più completo possibile, e oggi vi do questo Active Soccer 2023. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi preannuncio, oh eccolo un gol, Manchester Blues, invece di Manchester City, ah forse quest'altro è il Manchester United, non ci ho visto, no no, Liverpool, quindi. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento, oggi alle 14, oggi doppio appuntamento con il campionato, che ho registrato molte partite, perché dopo a Pasqua sono via, ma ne sono così tante, che forse uno al giorno non basta, quindi oggi doppio appuntamento con il campionato, perché dovete vedere sia questa run, ma soprattutto la prossima, emozioni fino all'ultimo secondo della decima partita della run, in entrambi i casi, da non perdere davvero, è più soddisfacente, non questa run qui, quella dopo, vi assicuro quella è molto soddisfacente, ma è un gran penare, fino all'ultimo secondo, io vi ringrazio ancora per l'attenzione, buona giornata, buon fine settimana, e a presto, ciao!